Il Comune di Battipaglia, con il Servizio Ambiente e la Polizia Municipale agli ordini del Talente Colonnello Gerardo Giuliano, hanno effettuato un sopralluogo presso l'Idrovra a causa di alcune segnalazioni pervenute dai bagnanti e dai gestori dei lidi. L'assessore dell'ambiente Carolina Vicinanza ha spiegato, da sopralluogo è emersa la presenza di alghe e mucillaggini provenienti dai sistemi di scarico del Consorzio di Bonifica. Il Consorzio è chiamato ad intervenire con ogni urgenza realizzando le opere necessarie ed annuncia l'amministrazione porterà il problema sul tavolo tecnico-politico del Masterplan del Golfo di Salerno, coinvolgendo direttamente anche il Consorzio, ritenendo che in quella sede si possa fare un'analisi corretta del problema e programmare i necessari interventi con la Regione Campania.